Alfonso Signorini confessa una verità hot su una donna molto conosciuta dello spettacolo Ecco con chi sembra aver avuto una storia. Alfonso Signorini prima di essere il presentatore del Grande Fratello e anzi, ad entrare nella schiera di quelli che sono i presentatori preferiti di questo programma così longevo, è stato uno dei re del gossip Altro che Fabrizio Corona. Alfonso Signori. Con quel suo fare da amico di tutto è sempre stato in grado di farsi lasciare a missioni scottanti da parte dei VIP che si volta in volta si sono trovati a fare i conti con lui e il suo fascino Un uomo carismatico che sa in che modo agire per scoprire i particolari più segreti della vita dei VIP Probabilmente proprio per questo motivo è stato scelto per presentare un programma così controverso come, appunto, Il Grande Fratello Ora che il conto alla rovescia è iniziato per l'inizio del programma, torna dei gran moda una delle affermazioni più scottanti che Signorini aveva tempo addietro rilasciato e che riguarda una vera e propria vippona del panorama televisivo italiano Insomma, andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha di chiaro il buon Alfonso su di lei Alfonso Signorini è stato a letto proprio con lei. Pur essendo il re del gossip e della cronaca rosa, difficilmente Signorini ha rilasciato dichiarazioni sulla sua vita privata Ha sempre preferito parlare di quella degli altri volti noti dello spettacolo restando in disparte a spiare le loro vite, senza permettere a nessuno di entrare nella sua Eppure malgrado la sua riservatezza, Signori di tanto in tanto si è lasciato andare a qualche dichiarazione scottante, così all'improvviso, quasi in maniera inaspettata, a volte lasciando che i telespettatori riuscissero a leggere tra le righe La donna misteriosa. La donna in questione non ha mai né confermato né smentito la relazione. Ma sembra proprio che Alfonso Signorini e Valeria Marini abbiano avuto un breve Non se ne è nemmeno accorta. Sono stato talmente veloce, ha rivelato una volta in tv In realtà il racconto della loro storia, circola ormai da molti anni e tutti la conoscono Una voce su cui comunque Valeria non si è mai sbilanciata. Quindi se sia vero o meno noi non lo sappiamo. Però tutto sommato ci piace crederci Eppure malgrado la sua riservatezza